Il matrimonio? Non è agnio. Potremmo sposarci bene se. Chiara Francini. Due film nel progetto. Libro di successo. Forte e chiaro. Un tour teatrale. Vive momento magico. Per la data. Che le dà la copertura del settimanale. Confessa aver deciso di diventare madre. Anni a Friedrich Lundvikist. 46 anni. Imprenditore scandinavo. Vuole un figlio 43 anni. Sono pronto per la fecondazione assistita. Sottolinea. Voglio un figlio a 43 anni. Sono pronto per la fertilizzazione assistita Chiara Francini. Ha deciso di diventare madre? Il mio analista dice che è incinta di prima che lo sia davvero. Non so se mi accadrà. Ma è un'avventura provarlo. Le domande che mi pongo sono sempre quelle. Ad esempio il mio corpo sarà il mio dito medio. Avendo più di 40 anni. Tuttavia. So che farò del mio meglio per avere tutte le possibilità disponibili. Includendo la fecondazione assistita. Spiega la Toscana. E aggiunge molti lo fanno. Ma nessuno parla mai. Ma nessuno parla mai a riguardo. Come se si vergogni ancora. Nel 2023. Ricorre alla scienza. Come se lo facevano ci facevano sembrare mancato. Un tabù simile a quello che è stato a lungo sulla psicoanalisi. La fragilità è invece una parte costitutiva dell'essere umano. Toscana nel protagonista del monologo di Sanremo in maternità al matrimonio con l'uomo che è al suo. Fianco dal 2005. Dice tuttavia il matrimonio è una sosta essenziale per una ragazza provinciale come me. Solo che non io non agisco. Penso con Frederick che potremmo sposarci bene se è arrivato un bambino. Il matrimonio deve essere per sempre. Ma cosa so se sarò per sempre con lui. È l'uomo migliore che ho incontrato ma non sposarlo è una possibilità che me ne vada per la vita e la libertà.